Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Grave lutto nel mondo della musica Sono tutti sotto shock per la perdita di un grande musicista, che ha fatto davvero la storia di questo settore. Se n'è andato prematuramente, a causa di una malattia che purtroppo non gli ha dato scampo. Ha provato a lottare con tutte le sue forze, ma alla fine è stato costretto ad arrendersi. Il suo decesso, annunciato nella giornata di venerdì 19 maggio, è avvenuto all'età di 59 anni. Infatti era nato il 17 gennaio del 1964. E sono in tanti a piangere la sua dipartita, che non è accettata da nessuno. Questo lutto nella musica lascerà un segno indelebile sulla pelle di tanti suoi fan, che l'hanno apprezzato per numerosi anni e avrebbero voluto ancora assistere ai suoi show musicali. Il terribile annuncio che ha causato un lutto e un dolore indescrivibile nella musica è stato fatto dal chitarrista degli Smiths, Johnny Marseys Social, dove ha condiviso diverse foto in compagnia del compianto collega. È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Andy Warp dopo una lunga malattia con cancro al pancreas. Andy sarà ricordato come un'anima gentile e bella da coloro che lo conoscevano e come un musicista estremamente dotato dagli appassionati di musica. Chiediamo privacy in questo triste momento.